Nelle operazioni di quantitative easing, cioè quelle operazioni con cui le banche centrali hanno immesso quantità straordinarie di liquidità nel sistema, le banche centrali compravano dalle banche commerciali crediti fasulli, fateli pure i crediti fasulli, tanto noi li proteggiamo, vediamo lo stesso della liquidità, prima gli dovevi dare un credito molto serio per avere della liquidità dalle banche centrali, poi nel tempo questa cosa si è deterioriata, hanno accettato tutto, hanno accettato derivati su derivati, cioè aria fritta al 100%, quindi quella operazione di cui parlavo prima, cancellare tutto dai bilanci delle banche centrali, rappresenterebbe un dovere morale, oltre a salvare tecnicamente mezzo mondo. Hanno fatto delle cose veramente oscene e pensare che gli stati nazionali hanno consegnato alle banche centrali il potere di creare la moneta e di gestire la creazione di moneta sulla scorta del pensiero infilato dell'immaginario collettivo che gli stati sono irresponsabili e spreconi e le banche centrali sono quelle serie che garantiscono il sistema, invece hanno alimentato deliberatamente la bolla speculativa più folle della storia dell'umanità. Quando tu prima parlavi della regolazione del valore della moneta in base all'emissione di denaro, mi veniva in mente quando ero bambino la scala mobile, quanto si discuteva della quantità di denaro, di lire che erano in circolo. Io mi ricordo IT, ero piccolo, ma i telegiornali che parlavano proprio della quantità di denaro che c'era in circolo e diceva si abbassava, ricordo se ritiravano dal mercato le vecchie 5.000 lire, le vecchie 2.000 lire, venivano tutti bruciati quei soldi, venivano tutti ritirati perché si doveva mantenere diciamo lo stesso quantitativo di denaro. Ma guarda, per arrivare a influire sul livello dei prezzi ci vuole la coincidenza di parecchie elementi. Ci devono essere tanti soldi nelle tasche di chi può spendere e ci deve essere un sistema di oligopolio, almeno in alcuni settori. Se ci fosse una buona concorrenza i prezzi non salirebbero, ma se c'è da una parte dell'offerta persone che hanno la possibilità di alzare i prezzi perché tanto il mercato lo controllano in pochi e dall'altra parte soldi nelle tasche dei consumatori, l'inflazione è una certezza. A quel punto tu Stato, tu Banca Centrale che vuoi evitare quel tipo di inflazione, vai a togliere con le tasse i soldi dalle tasche dei consumatori. Così anche se gli oligopolisti alzano i prezzi, noi non abbiamo soldi per comprare e quindi i prezzi comunque non salgono. Quando c'era l'inflazione tu parlavi della scala mobile. A noi ci hanno talmente rimbambito di chiacchiere che ci hanno fatto credere che l'inflazione fa male all'orfano, alla vedova, al poveretto. In realtà se l'inflazione, se l'aumento dei prezzi rappresenta la perdita del potere d'acquisto del denaro, l'inflazione fa male a chi c'ha i soldi. Se sei ricco, se hai una montagna di soldi investiti o addirittura prestati a qualcuno, sei molto preoccupato dell'inflazione. Se io sono un lavoratore che ho il mio stipendio e c'è l'inflazione dovuta a un buon andamento dell'economia, tutti lavorano, tutto producono, tutti comprano, è normale che ci sia un po' di inflazione. Io non ho nessun problema perché se l'economia gira io posso sicuramente ottenere un aumento di stipendio, non me lo dai e vado a lavorare da un'altra parte. Tanto l'economia gira, tutti investono, tutti producono, tutti scambiano. La scala mobile poi era una conquista particolarmente ragionevole per quei tipi di lavoratori, per le pensioni che se no non potevano difendersi dall'inflazione. Ma noi ci hanno convinto che l'inflazione fa male ai poveracci e quindi con un referendum abbiamo deciso di abolire la scala mobile. Abbiamo votato così. È incredibile. Ed era, insomma, era bello quando c'era la lira, perché alla fine è triste dirlo che stava meglio prima, ma insomma. Non mi sarei mai potuto comprare casa se non ci fosse stato quel tipo di inflazione. Agni tempi, negli anni Ottanta, ti compravi casa senza soldi. Sì, sì. Lavoravi. Certo. Pagavi cifre esorbitanti di interesse. Però il tuo stipendio aumentava molto più rapidamente di quanto non pesasse. Va bene Guido, grazie mille. Guarda, ti ho tenuto qua 50 minuti. Mi tengo buono un'altra intervista perché è sempre un piacere. Ti ringrazio e ci diamo appuntamento a una prossima chiacchierata fra un po' di tempo, sperando di non parlare ancora di un'altra crisi bancaria, una crisi finanziaria, magari parlare della creazione di una nuova moneta o qualcosa del genere. Cosa fare con i nostri risparmi prima che svaniscono nel nulla. Anche questa sarebbe una gran bella argomentazione. Ce la teniamo buona per la prossima volta, bella? Grazie mille Guido. Ciao Davide, alla prossima.